o domorni casi direi più buon pomeriggio perché qui sono due meno dieci in italia mister master maestro o semplicemente david lynch it's november 30th 2021 it's tuesday the last day of november in naples 51 fahrenheit round 11 celsius e quindi questo significa che non è quella giornata veramente 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 mite in questi giorni in questo periodo perché effettivamente ci sono una decina di gradi in meno e quindi fa molto più freddo rispetto alle medie ma del resto ormai domani entriamo in dicembre e oggi non penso a nulla in particolare almeno adesso non mi viene nulla a cui pensare magari lo scrivo in descrizione poi se mi viene qualcosa in mente anyway as you just see from the window we have today we have those beautiful loose skies and golden sunshine nothing all along the way fino al resto della serata finalmente il secondo giorno dopo l'unico altro giorno che abbiamo avuto con veramente e speriamo che questo sia di buon aspicio per dicembre e sì insomma che questo giorno possa inaugurare un dicembre più positivo visto che novembre direi proprio che è stato tragico talmente nero ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro ma in questo caso la vedo impossibile perché è un tempo straordinario but as always we will see say that this so from the mythical window with the color of the curtain it's beautiful the color of the curtain today beautiful beautiful che luce bianca sembra dorata più che colorata grazie a questo bellissimo beautiful a questi beautiful blue skies and golden sunshine and it's green roller shooter on the top or air in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha digi x 640 ipg ipg 625 ever a great day in all the people follow the channel and every person e sempre in testa iusef ma eh commentatori più assidio e punto il commentatore più assidio ancora ma anche gli altri ehm come patrick dagas ma karabaloka insomma ma tutti avete il mio rispetto quelli che sono iscritti come dico sempre pochi ma in questo momento ma significativi per me tutti tutti importanti saluto anche agli haters ovviamente siete sempre importanti anche voi all'uomo che faceva il report al Vermont spero che ritorni a farlo più presto anche lui ehm un saluto a lui e alla sua famiglia ehm un saluto alle possibili nuove new entry o iscritti so again have a great day in all these people and everyone too ho 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 ho